Noi che crediamo in voi E non abbiamo paura Con fuori quest'avventura Disposti a tutto per un sogno In alto in cima al mondo Per la primavera un primo grande obiettivo La qualificazione per la fase nazionale E con due giornate di anticipo Ci speravate all'inizio Dopo quei pareggi che magari vi avevano messo in seconda posizione Poi è andato tutto bene in questo rush finale Sì, è andato tutto bene Comunque i pareggi sono stati dei piccoli errori Che comunque abbiamo recuperato col tempo E la vittoria è stata il frutto del lavoro Durante gli allenamenti L'aiuto dello staff E la squadra è comunque molto unita E questo è un punto di forza per la squadra Quali sono adesso le prospettive? C'è ancora una partita di campionato Ma poi ci sarà la fase nazionale Per una squadra primavera E peraltro giovanissima rispetto alle altre Sì, sì, è una primavera molto giovane E noi comunque puntiamo a vincere questo campionato Per una soddisfazione personale E l'obiettivo che ci siamo prefissati inizio anno Per una soddisfazione personale Per una soddisfazione personale